Ci sono gadget che sono stati progettati per gli uomini a cui piace armeggiare. Non è sempre necessario rivolgersi a specialisti quando gli uomini di casa hanno concetti e gli strumenti che è necessario per quanto riguarda l'impianto idraulico e l'elettricità. E' importante però avere gadget che siano utili in qualsiasi situazione a casa. Ed ecco allora alcuni gadget che ti saranno utili per la vita di tutti i giorni e per il fai da te. Ciao a tutti, spero siate in forma, restate bene collegati fino alla fine e troverete la descrizione di tutti quanti i gadget più interessanti. Capsule Bombway Un coltellino è un accessorio che accompagna gli uomini ovunque vadano. I coltelli sono ancora più pratici quando vuoi portarli ovunque. Il coltello portachiavi di Bombway è un gadget che è ancora più interessante perché combina portachiavi e coltello. Questo piccolo utensile da taglio di Bombway ha la forma di una capsula con una pillola a lama ed un anello che funge da cappuccio. Realizzato in acciaio inossidabile e ottone di alta qualità, il piccolo coltello non si arrugginisce facilmente. Non è affollato perché pesa solo 19 grammi ed una dimensione di 5,3 x 3 cm. Può quindi essere attaccato alle chiavi o ai supporti per la cintura. Con i colori oro e argento ha un design accattivante oltre alla sua praticità. Nessuno si rende conto che è un coltello. Non vi ha alcun rischio di lesioni dovuto all'uso del coltello portachiavi Bombway poiché il suo cappuccio è tenuto in posizione da una molla flessibile. Può essere messo in tasca in modo sicuro. L'angolo di taglio della lama è di 35 gradi e il rischio di lesioni dovute al taglio è davvero minimo. Il fatto che puoi dividere le pillole con un coltello aiuta a dividere le pillole con il coltello stesso. È possibile utilizzare il coltellino per raschiare adesivi o aprire scatole sigillate o aprire lattine. Il coltello portachiavi ti accompagna ovunque tu vada senza rischi poiché ha un cappuccio e le dimensioni e la sua leggerezza, nonché la praticità, lo distinguono dai normali coltelli. I coltelli pieghevoli sono modelli ampiamente venduti in tutto il mondo. La loro praticità e il loro design li distinguono dai normali coltelli. La Lyra è un coltello pieghevole che ha la sua specificità. Con una lunghezza di 4,7 pollici totali, la Lyra è un coltello su scala nanometrica con un manico più lungo della lama. I normali coltelli pieghevoli hanno un manico e una lama che hanno all'incirca le stesse dimensioni, mentre qui un manico è il doppio della lunghezza della lama. Con la lunghezza del manico l'utente può facilmente maneggiare il coltello. È un coltello pieghevole interamente realizzato in acciaio. Ha il suo sistema di piegatura e ci sono collegamenti che ti consentono di piegare il coltello fino ad un terzo della sua dimensione. Questo sistema consente di far scorrere la maniglia senza rischiare di tagliarsi le dita. La lama è stata realizzata con uno spessore di 3 mm ed è stata realizzata in acciaio super duro. La forma della lama è fuori dall'ordinario, poiché ha una paletta che consente di posizionarvi le dita e in questo modo puoi tagliare in modo preciso e sicuro. La lama dei coltelli orizzonte è quando la pieghi che si nota che è importante. Ciò mantiene la qualità della lama ma protegge anche l'utente. L'aira è un gadget facile da trasportare. Puoi usarlo quando vai lontano o quando hai oggetto e bisogno di usare un coltello e può essere utilizzato su oggetti duri ma anche su quelli morbidi. Robtop Agli uomini piace fare il fai da te mentre sono a casa. Il problema delle vite e del chiodo che scompare è molto comune. Il braccialetto magnetico Robtop è un gadget molto pratico che si rivolge agli uomini. Avere tutto ciò di cui hai bisogno è molto importante quando inizi a fare qualcosa di casa, in generale il fai da te. Realizzato in poliestere, il bracciale magnetico a 15 magneti Robtop ha una fascia elastica che lo mantiene in posizione in modo che non si stacchi facilmente. Il bracciale magnetico Robtop può trasportare più strumenti rispetto ad altri braccialetti magnetici. Ha due tasche che vengono utilizzate per riporre piccole parti come viti e chiodi e gli strumenti sono attaccati grazie alla forza magnetica. E' stato progettato per essere adatto a tutti i polsi, ha una grandezza abbastanza varia e soprattutto ha una differente possibilità di indossamento e si perché esso ha una dimensione dei 12,5, 9,9 e 3 cm. Quando armigiano gli uomini devono sempre affrontare problemi poiché hanno solo due mani e non possono tenere tutto. Grazie a questo risparmerai un sacco di tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aikeding Una penna è un oggetto di cui tutti hanno bisogno quotidianamente. Esistono modelli di penna multifunzione che sono molto unitili per chi fa il fai da te. La penna multifunzione Aikeding è un modello molto pratico che può essere offerto agli uomini come regalo. La penna del marchio Aikeding combina diversi strumenti. Questa penna è infatti un 6 in 1, ha altre 5 funzioni oltre al fatto che è una penna a sfera nula. In effetti ha un righello, una livella a bolla d'aria, un cacciavite a taglio del Philips, uno stilo per smartphone e una clip da tasca. Ha una forma esagonale che ne impedisce il rotolamento e quindi non devi preoccuparti di perderlo. Disponibile in nero, ha un bellissimo design, pratica per le sue varie funzioni, contrariamente a quanto alcune persone potrebbero pensare, questa penna non si confonde, puoi metterla nella borsa nel caso di cui avessi bisogno durante il viaggio, hai anche una stilo che puoi usare per qualsiasi momento e per i burocrati è uno strumento davvero completo. Duco Molte persone lavorano di notte. Avere una buona visione non è dato a tutti, devi prenderti cura dei tuoi occhi. Esistono occhiali specifici per la guida con tempo piovoso e nuvoloso. Gli occhiali però per la visione notturna sono utili quando si guida in mezzo alla notte. Con il tempo può essere ancora più difficile guidare di notte. Gli occhiali per la visione notturna hanno lenti polarizzate gialle con rivestimenti antiriplessi. Gli occhiali sono sia leggeri che resistenti ad una protezione UV 400. Gli occhiali sono stati progettati per resistere ai raggi nocini. Sono infrangibili permettendo di diuzarli per molto tempo e per lunghi tragitti. Il telaio è realizzato in fibra di carbonio, cosicché essi abbiano un design esile e un peso molto basso. Per quanto riguarda il resto, questi occhiali aiutano a ridurre l'affaticamento degli occhi dalla luce dei fari. In tempo nuvoloso migliorano la visione e ciò renderà più facile vedere i colori al buco. Se stai cercando regali da regalare ad uomini intorno a te, ci sono gadget appositamente adatti per gli uomini. Tutti i link li trovi in descrizione. Spero che il video ti sia piaciuto. Ti chiedo di mettere mi piace, iscriverti al canale e farmi sapere la tua nei commenti come sempre. Alla prossima! Grazie! 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 Grazie!